Il personale ATA praticamente non è stato mai tenuto in considerazione, anzi addirittura quando c'era l'approvazione della legge 107 si pensava che non parlando del personale ATA, lasciandolo proprio così nel dimenticatoio più assoluto del personale A si faceva un favore al personale ATA. Oggi si vedono i problemi, oggi si vedono i problemi che c'è più personale docente e meno personale ATA. A noi quando hanno fatto anche l'ultima legge a buona scuola, a livello nazionale, si parlava in televisione, nei giornali, solo docenti, personale ATA non ne parlavano quasi nessuno come se noi non esistevamo. Ci sentiamo anche prestattati come stipendi, perché noi in confronto a loro prendiamo uno stipendio da fare. Ma una cosa che non dice nessuno, che su questa riforma non sono menzionati gli studenti, che è la cosa più grave, è la cosa più grave. Questa è una riforma a costo zero e da qualche parte i soldi devono venire fuori e da dove si prendono i soldi dal personale, che sono la prima voce di spesa di qualsiasi riforma.